e gli amici di sesto tv oggi abbiamo davvero una un'occasione veramente per noi importante perché abbiamo un ospite graditissimo che ha accettato con grande disponibilità il nostro invito è la nuova rettrice dell'università di firenze professoressa alessandra petrucci buongiorno professoressa buongiorno buongiorno a lei ea tutti gli ascoltatori spettatori che ci saranno bene la professoressa petrucci è stata eletta da poco tempo e ha preso le redini di un ateneo così importante come quello fiorentino io sono particolarmente contenta di parlare con lei perché una rettrice donna è una grande cosa è un paese come l'italia in cui le donne con difficoltà si fanno strada nei posti elevati di responsabilità la professoressa è una statistica mi pare si occupa di statistica sociale poi le chiedo anche un po di fare un po un profilo di se stessa lei se fiorentina se se oppure se approdata all'università di firenze da qualche altra città che tipo di studi stava svolgendo prima di essere impegnata in questa attività e soprattutto le chiederei di raccontarci un po' brevemente perché il nostro incontro purtroppo per impegni tutti non sarà molto lungo di raccontarci un po' lo stato di salute dell'ateneo soprattutto in relazione alla ripresa dell'attività dopo un periodo così difficile come quello che tutte le istituzioni scuole università compresa hanno attraversato con la pandemia bene molte domande molti stimoli il ringrazio veramente molto anche per questa vostre per questo vostro invito che mi dà mi dà modo di parlare della nostra università per quanto riguarda la mia storia è molto rapida nel senso come ha giustamente ricordato lei io sono una statistica sociale come background in realtà sono un ingegnere civile e quindi apparentemente distante da una materia che potrebbe essere più vicina al sociale ma questa distanza in realtà non c'è anche perché molto delle analisi insomma le analisi di cui si occupa la statistica sociale ha bisogno di una buona preparazione di carattere matematico e questo grazie alla mia laurea in ingegneria appunto ho potuto affrontare in maniera più facile anche questo tipo di studi. Come statistica sociale mi occupo soprattutto di mobilità studentesca quindi uno dei campi su cui lavoravo e spero ancora di lavorare è proprio questo che riguarda la tipologia degli studenti di come questi si muovono appunto sul territorio nazionale e non solo che tipo di studi affrontano che difficoltà trovano che differenze vi sono fra appunto varie tipologie vari gruppi di studenti. Io sono qui all'università di Firenze dal 97 non sono proprio prettamente fiorentina anche se il mio accento è abbastanza vicino a forse non proprio fiorentino ma insomma quello toscano la mia famiglia è toscana in realtà io non non sono nata non sono nata a Firenze ma credo che ormai posso sentirmi tranquillamente non solo fiorentina ma soprattutto chiantigiana perché in realtà io abito nel chianti e quindi questo è la mia la mia terra di adozione. Ecco questa ripresa delle attività universitarie che difficoltà hai incontrato o che che clima insomma con che con che spirito e con che con quale determinazione state affrontando questa questa ripresa e questo momento? Beh questo è un momento senz'altro molto stimolante perché da un lato è vero che dobbiamo andare ad affrontare tutta una serie di problematiche dovute chiaramente soprattutto alla pandemia del Covid-19 ma d'altro canto abbiamo anche tutta una serie di stimoli che ci provengono da questa attività di attenzione da parte anche del governo e anche dell'Europa eh con il piano nazionale eh di ripartenza e resilienza quindi di conseguenza il cosiddetto PNRR quindi ehm è molto stimolante è molto interessante anche poterla eh poter vivere questo questo momento. Ecco mh come abbiamo detto anche brevemente mentre preparavamo la nostra conversazione l'interesse che Sesto TV eh riveste per le attività universitarie si concentra in particolar modo sulla presenza e come è logico che sia sulla presenza del polo scientifico all'interno del territorio di Sesto Fiorentino. Certa che rimanda a a a programmazioni universitarie e storiche e che continua eh a essere come dire eh essere sostenuta ehm perché noi che abbiamo avuto contatti anche con i rettori precedenti eccetera abbiamo sempre colto eh un interesse particolare per questo importante eh insieme di attività scientifiche e didattiche e visitando il polo da cima al fondo potrei quasi dire eh come abbiamo fatto in occasione di altre trasmissioni diciamo potuti rendere conto dell'importanza di questa eh istituzione e anche del desiderio che chi ci lavora eh professori, tecnici, ricercatori ehm dà alla comunicazione di quello che avviene all'interno del complesso di questo grande condominio diciamo così eh scientifico e della comunicazione con l'esterno per far capire l'importanza della loro attività. Ecco ehm io le chiederei inizialmente poi andiamo sui problemi perché ci sono anche i problemi non soltanto eh le potenzialità e le cose belle che si fanno. Come valuta in questo momento le attività e i progetti di ricerca del polo in relazione a quello che è il nucleo dell'attività quindi il trasferimento tecnologico e i rapporti con il territorio e con il mondo delle imprese. si può fare di più? Lei conosce questa realtà? Ha già preso contatto? Ha preso contatto in altri momenti? Mh per diciamo calibrare anche quello che sarà la sua strategia, la sua personale strategia come nuova elettrice nei confronti delle attività di questa struttura? Eh allora grazie per questa per questa lunga domanda ma necessaria eh il polo di sesto è un polo strategico per l'Ateneo come lei giustamente ha ricordato lo era anche per i miei predecessori, lo è anche per me eh bisogna ricordare proprio rapidissimamente che lì vi sono le eh l'insediamento della parte delle discipline scientifiche eh dell'Ateneo che sono senz'altro un elemento di grande importanza a livello sia nazionale che internazionale quindi l'attenzione nei riguardi delle dei colleghi e delle colleghe che eh lavorano eh e che fanno ricerca in nel polo di sesto è molto alto e lo deve comunque rimanere questa attenzione deve comunque rimanere. Eh giustamente mi ha chiesto se lo conosco io lo conosco l'ho più volte visitato ehm lo visito periodicamente perché credo che la presenza abbia anche un suo significato e eh ho anche deciso di cercare di dare maggiore ehm ascolto al a questo a questo insediamento mhm definendo un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro interno che possa in maniera anche più ehm più da vicino seguire tutte le necessità che come sa sono tante eh di questo di questo polo quindi eh credo che la che il nostro il nostro polo abbia la necessità di essere sempre molto al centro dell'attenzione mh e quindi è giusto seguirlo è giusto eh vederne anche le evoluzioni che in realtà sono eh piuttosto ehm ampie. Ecco noi come dire puntiamo anche all'evoluzione di questo di questo insediamento. Sapete che eh si sa già che in quella zona eh verrà costruita la nuova sede eh di Agraria ormai è un fatto come dire certo perché anche abbiamo ricevuto delle dei finanziamenti piuttosto importanti da dal ministero e quindi questo significherà avere lì anche tutto tutta Agraria tutto quello che in questo momento è in realtà un po' ehm sparso in varie sedi ehm di di queste di queste discipline. C'è una tempistica diciamo così almeno di massima eh perché è già tanto che se ne vado. Sì è vero però in questo caso noi abbiamo anche dei vincoli stretti anche che riguardano il finanziamento quindi io mi auguro che eh se non io quando finirò il mio mandato ma almeno chi verrà dopo di me sarà una delle prime eh inaugurazioni che farà perché i tempi veramente sono abbastanza contingentati quindi io mi auguro davvero che eh ci possa essere questo questa inaugurazione. Ho capito. Eh lei dice bisogna parlare del polo. Ora del polo in quest'ultimo periodo se ne è parlato tanto anche sui giornali perché sono riemerse le questioni che riguardano le infrastrutture a servizio di questa di questa struttura. Eh infrastrutture che eh ma sono anche altre cose diciamo così di servizio interno per gli studenti, per i tecnici e per i professori ma che riguardano soprattutto la questione dei collegamenti e dei trasportistici e quindi delle delle ipotesi che si fanno del del percorso trambiario. Ehm ci sono stati dei pronunciamenti eh anche da parte di professori e dirigenti del polo ecco eh è inevitabile che io le chieda come la pensa e se ci sono dei dei lavori in corso anche dei 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 confronti che permettano poi di valutare eh al meglio e di fare una scelta la scelta migliore per per il polo stesso. Eh sì certo la questa come dire forse la domanda delle domande. Facendo un piccolo passo indietro penso che tutti quanti sanno che il polo eh dovrebbe essere eh servito appunto da una linea tramviaria che passerebbe al suo interno eh partendo sostanzialmente da dove finisce l'attuale seconda linea per poi eh rientrare eh verso appunto la il centro urbano di di Sesto. Eh questo era quanto io conoscevo eh so appunto che ci sono stati un po' di proposte diciamo così di di modifica nell'estate quando io ancora eh non mi ero insediata quindi effettivamente c'era come dire una forse mancanza di eh rappresentanza da parte dell'Ateneo. Eh ehm adesso si sta ridiscutendo questo argomento perché appunto è è noto a tutti che eh ci sono state diciamo così alcune dichiarazioni anche da parte del del presidente della regione ma anche da parte del sindaco di 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 Sesto e anche del sindaco della città metropolitana Nardella eh nei riguardi del del percorso che deve ehm che deve seguire la 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 linea tramviaria. Eh io credo che ci siano in realtà tutti tutti gli spazi per poterne parlare in maniera ehm attenta quindi ponendo la giusta attenzione nel sull'importanza ponendo l'importanza del del passaggio del del tram per il polo eh e credo anche che ci sia la disponibilità da parte appunto di questi soggetti a voler eh trovare una soluzione che possa soddisfare sia l'importante esigenza che manifesta il il polo e anche quello eh se vogliamo appunto della della cittadinanza di Sesto che credo eh possa sfruttare al massimo questa possibilità di collegamento col polo stesso perché a mio modo di vedere un punto che forse non è mai stato abbastanza sottolineato il fatto che è vero che la la linea tramviaria eh consentirà un agevole collegamento sia con Firenze ma anche con la linea ferroviaria perché passerà anche da dal dalle stazioni di di Castello ma anche il collegamento del polo con Sesto e io credo che questo possa costituire veramente un elemento qualificante per il comune per il comune stesso quindi è una come dire sono benefici che vanno in direzioni nelle due direzioni sia il polo può beneficiare di questa questo miglioramento di mobilità ma anche lo stesso Sesto non solo migliorerà eh la sua ehm viabilità in senso diciamo così generale ma anche con lo stesso polo quindi potrebbe essere potrebbero essere delle realtà che pur essendo pur stando così vicine forse in questo in questo modo si potrebbero conoscere veramente in maniera migliore come io mi auguro eh due cose puntuali per per concludere uno riguarda la licea scientifica Agnoletti c'è il trasferimento di questa struttura di scuola media superiore all'interno del polo quali iniziative per integrare questi percorsi quello di formazione superiore quello universitario e più più elevato diciamo così di grado più elevato e l'altra cosa c'è un altro punto che riguarda il rapporto tra l'università e il comune di Sesto riguarda il centro sportivo e non so se eh lei ha già preso anche coscienza e conoscenza di questo elemento c'erano contatti in corso perché questo questa struttura sportiva potesse essere usufruibile anche dalla cittadinanza generale ecco eh su questi due punti il trasferimento del del liceo e e l'uso delle attrezzature sportive dell'impianto di infrastruttura sportiva vorrei chiedere a che punto siamo se sono ripresi i contatti che 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 sono necessari per mandare in porto queste operazioni. Allora per quanto riguarda il trasferimento del liceo io credo che questa sia un'occasione magnifica per il polo per avere all'interno anche eh l'inizio della filiera se la vogliamo chiamare in questi termini quindi la possibilità da un lato da parte degli studenti del liceo di vedere eh e di poter eh appunto eh avere una un riscontro eh immediato sul futuro che eh potrebbero eh abbracciare che io mi auguro in molti abbraccino e dall'altro canto abbiamo anche eh lo stimolo da parte nostra di vedere appunto queste nuove generazioni e eh le esigenze che da loro potrebbero scaturire quindi io la vedo veramente come una un elemento sinergico importante che forse eh pochi eh insediamenti come il nostro hanno la fortuna di avere quindi da questo punto di vista la saluto veramente con grande attenzione e e interesse spero proprio che possa ehm essere un forte valore aggiunto e non ci dimentichiamo che l'insediamento sarà piuttosto interessante perché credo che eh il liceo eh sia un liceo di una dimensione piuttosto piuttosto importante quindi questo fa sì che eh il polo si arricchisca notevolmente e per quanto riguarda invece le attività sportive allora eh ne abbiamo un po' parlato di già con eh con l'amministrazione di Sesto con il sindaco di Sesto il sindaco è stato veramente molto ehm attento e mi ha subito eh cercato per invitarmi a a un a un dialogo e quindi a me ha fatto molto piacere e sicuramente è un canale che continuerà e spero anche in maniera molto produttiva ehm stiamo discutendo anche di questo argomento eh e ovviamente come potrai immaginare adesso la l'argomento principale è quello della mobilità e quindi in questo momento stiamo un po' più affrontando questo questo punto che è un po' di rimente ecco è un po' e poi sicuramente passeremo ad affrontare anche il la questione eh che riguarda gli impianti sportivi che ricordiamoci sono eh anch'essi estremamente importanti ma non solo per la cittadinanza eh di Sesto ovviamente in primis per i docenti e gli studenti e personali tecnico e amministrativo della nostra Ateneo ma eh importanti secondo me potrebbero esserlo anche per gli stessi studenti dell'Agnoletti e eh appunto anche per la cittadinanza di Sesto sì che si dovrà ragionare in una maniera molto eh articolata e eh tenendo un po' conto di queste esigenze cercando di sfruttare al meglio gli impianti eh che questo insomma un po' il nostro dovere eh di eh ente pubblico no? Quello di cercare di trovare il miglior modo di sfruttare a beneficio della cittadinanza in senso lato. Bene io non ho che da ringraziare la professoressa De Sandra Petrucci per la disponibilità eh che ci ha dato eh penso che spero che ci sia modo nel futuro di di riapprofondire e di vedere anche poi eh scalino per scalino e tutta l'evolversi di queste di queste situazioni e di queste problematiche eh le auguro buon lavoro lei ha appena cominciato e ne ha bisogno questo sempre eh le faccio i migliori auguri da parte di Sesto TV dico ai nostri ascoltatori che riprenderemo in mano tutte queste questioni anche con il sindaco di Sesto che ci ha eh tra breve sentiremo e quindi metteremo anche un po' anche se da lontano a confronto tutte un po' le istituzioni che stanno seguendo le problematiche della nostra cittadinanza. Grazie professoressa Petrucci e allora diamoci almeno un appuntamento generico ma a una prossima volta. Senz'altro magari possibilmente a Sesto stesso cioè sul sul luogo del delitto come si dice. Meglio che mai meglio che mai benissimo benissimo accoglieremo senz'altro questa proposta. Eh grazie a voi a agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Sesto TV. Grazie. Grazie ancora e arrivederci a tutti. Arrivederci.